Da dove vieni? Io sono di Termoli. Ho capito, questo parlo in stampatello. Trocallo, detto vicino, di Termoli. Di Termoli? Che fai a Termoli nella vita? Adesso non faccio quasi niente. È già qualcosa. Nella vita hai fatto, che tipo, che cosa hai fatto? Una delle cose che hai fatto, dai, non è che... Quante cazzo di cose che hai fatto? Che hai fatto? Una cosa che hai fatto? Ho fatto una famiglia. Una famiglia hai fatto? Una famiglia hai fatto? Una famiglia con due figli e tutti i nipoti conseguenti. Tutti i tuoi fatti? Ma non sembra, fai vedere. C'è bene. Poi, quindi una volta che hai fatto questo... Che vuole sapere? Ma hai fatto una famiglia, un nipota, un apposto. Lavorato. Lavorato, no, beh. Stai passando l'estate dove? L'estate di quest'anno. No, tre anni fa, volevo sapere. No, ci tenevo tantissimo. Ti ricordi che ti avevo chiamato? Così si nasce o si diventa famiglia? Dopo che uno fa una famiglia, metti una volta, metti una seconda volta. Poi nasce o gli nipoti, lanci una mano al figlio, dai lì a prendere sui nipoti. L'estate è un posto più bello di Termoli e difficile a trovarlo. E lo so, e lo so. Quindi, d'estate, rimani qua. Diciamo che d'estate sicuramente resta a Termoli. E io che cosa ho detto? Poi durante l'inverno te ne vai. Gli altri stagioni vediamo, dipende. Per esempio dove sei andato l'inverno scorso, due anni fa, tre anni fa? Dove è capitato di andare? Adesso con il lockdown non siamo andati a nessuno. Non capisco, questo? Il virus che c'è stato. No, il virus. Dove devi andare? Dove ti presenti con questo lockdown? Senti, con chi sei venuto qua? Con la macchina. C'è però una selezione all'ingresso l'avrei fatta. Senti, tu mi segui un po' con i social? Io la seguo molto, sui social mi diverto molto. È vero, grandi o... Sì, stasera è stato bellissimo perché poi insieme con gli altri è piacevole pure sentire... Sediamoci, 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 è lungo. Però... E mentre quanto la sento sul telefonino, spesso sono da solo e quindi rido da solo. Ed è bello questo. Molto. È bellissimo. Complimentare e farle gli auguri. Grazie. Oggi è il mio compleanno e quindi... Maresciallo. Maresciallo. Che vedremo dopo, tra un pochissimo. Fammi salutare l'amico grande. Noi siamo molto... Mettiamoci più al centro, ragazzi. Mettiamoci più al centro. Mettiti qua, mettiti qua. Tu da Venezia. Ma ti rendi come Venezia è una città unica al mondo o no? 645 chilometri da qua. Sì, sì. Google Maps si è diventata... 640 chilometri da qua. No, di più. Da Venezia fino a Termoli sono 645 chilometri. Vabbè, noi siamo qua per rimborsare le specie di benzina. Mi presento. 341 chilometri da Bari vengo. È più vicino. Senti. 740 chilometri. 640 chilometri. Ah, 640 chilometri. Allora, voglio ringraziare tutti i termolisi, perché si chiamano così, termoli, che abbiamo ospitato, insomma, ovviamente. E se ne è andata a casa loro, a ciascuno di loro, a rischio che sono ospitali. Uno per uno. A casa di suo, ancora deve andare. Lui ha fatto una famiglia, ancora pensi che non lo vede così, con le mani in mano. Come è passato il ferragosto? Bene. Benissimo. Benissimo, cioè che hai fatto? Un po' di tutto. Quello che si... Un po' di tutto. Ti si è fatto un'altra famiglia, il ferragosto? È fatto un po' troppo caldo e quindi ci siamo dovuti adeguare, comunque. Ma vai a mare o no? No. E dove? Che spiaggia? Spiaggia, diciamo... Questa è la sabbia. Chiamiamo Lido Nord di Termoli. Lido Nord. Perché? Perché Termoli sta sul mare, sono scogli sul mare. C'è Lido Nord e Lido Sud. Ah, ma vedete che logica, che cazzo c'è? Lido Nord.